Signore, siamo con Erminio, la morte di Giovanni, allora Erminio, tutto il pubblico vorrebbe sapere a cosa è dovuta la tua, la gioia di questa notte Erminio No commento oggi Abbiamo saputo del nuovo acquisto, del nuovo telefono, altri cento di questi anni Erminio Che cazzo ci c'entra? Lo telefono con la partita di oggi Erminio, il pubblico vuole sapere come mai tu ti ritieni una persona stressata E quindi ieri ti sei regalato questo Ma perché? Non si è visto in campo Erminio, Erminio, siamo in diretta Sono anche questi i motivi che creano il mio stress psicologico e fisico La squadra non gira Siamo in diretta Erminio Dice, la squadra non gira, non va, non va C'è bisogno di un ritiro per... 10 euro di lasciati A proposito del ritiro, hai cacciato i 10 euro canonici per partecipare alla convention? Sarà prossimo farlo Perché tu naturalmente adesso non ti puoi permettere 10 euro Chiaramente dopo l'acquisto che ho fatto siamo un po' in... Tu hai problemi di denaro Guardatelo bene, signori Dalla culla alla bara di Giovanni Ti ringrazio, Sergio Un commento tecnico? Banda gli scherzi, Erminio No, no, la squadra non c'è sempre La squadra sono due o tre partite che proprio non gira Non ci siamo in campo Non c'è voglia di giocare Dobbiamo darci in regolato Dobbiamo essere dati, c'è il tavolino E vedere che cazzo vogliamo fare Ancora, quindi tu stai indicendo una nuova riunione dei soci della Virtus No, un tavolino a mangiare, sì Un tavolino a mangiare Ah, intendevi un banchetto, intendevi un banchetto, ho capito Dobbiamo risollevare il morale di questa squadra Quindi... Quindi... Signori, ecco qua Un quadratolo E' un inverno magro, è un inverno magro Oh, le 10 euro le tiene anacquati Pure le 10 euro le tiene anacquati Ma non ti metti in scuola Eccola Non ti vergogno Allora, a videoripresa Così non si potranno essere... A Pargolo, a Pargolo Sono i testimoni e tutti Ma come ha il Pargolo? E poi me la dà lui A Pargolo Ok A terze persone Di Giovanni Questa è la mano di Sergio A tutti i soci E gli atleti della Virtus Di Giovanni ha dato la 10 euro Naturalmente, dalle immagini non si riesce a capire La mano di chi sia Quindi... Non so Comunque questi sono i 10 euro Sempre nuovissimi Appena... Stampati Appena stampati Appena finiti dalla zecca, Sergio Sì, guardate, c'è stata la foto tua C'è stata qua, la via Dal buon di Giovanni per il momento a tutti Tutto Dramma Napoli Altidoro Dramma Napoli abbiamo sentito Altidoro 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 Siamo in diretta Altidoro Un uomo solo Si allontano Un uomo solo Buonasera La Virtus lentamente va a casa E' sempre brutta Andate via ragazzi Voi andate via Mi sono una persona gioiosa Fosti tutti come a me Tristemente Cala il sipario Sull'ennesima sconfitta della Virtus Un calco meraviglioso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti